Amici carissimi, siamo all'ultima domenica di settembre e continua questa scuola di Vangelo che Gesù apre per istruire i Suoi discepoli dopo aver spiegato che il più grande è l'ultimo, che il primo è il servo e che bisogna essere pieni di stupore come i bambini, bisogna avere cuori di bimbi nell'arte del servire e che l'unico primato è sempre l'ultimo posto e quando la Chiesa e i cristiani capiremo questo forse la Chiesa sarà già trasfigurazione in cielo. Ecco, dopo aver detto tutte queste cose, Gesù adesso presenta la radicalità del Vangelo. Noi abbiamo anacquato il Vangelo, l'abbiamo anacquato con troppi compromessi, abbiamo chiuso, abbiamo tagliato troppe pagine, troppe parole di Vangelo. Abbiamo fatto un Vangelo a nostra immagine e sua invianza per acquietare la coscienza. Gesù invece è radicale e nella sua radicalità parla di scandalo e usa tre parti del corpo, la mano, il piede, l'occhio. dice se la tua mano ti scandalizza, tagliala, se il tuo piede ti scandalizza, taglialo, se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. Perché Gesù usa proprio questi tre elementi del corpo umano? Perché la mano dice l'azione, il piede indica l'agire morale, l'occhio indica la conoscenza. Non si sazia l'occhio di guardare, ricordate il libro di Coelet. Allora, azione, vita morale, conoscenza. Queste tre cose devono essere purificate in modo radicale. Il nostro agire, non possiamo più agire così con tanti compromessi. Gesù dice il meglio entrare in paradiso con una mano sola, che averle tutte e due e andare a finire all'inferno. Quindi purifica in modo radicale il tuo agire, il tuo modo di agire. Purifica in modo radicale la tua vita morale. Perché il piede è simbolo della vita morale? Perché la vita morale, cioè il comportamento secondo Dio, secondo le scritture, secondo il Vangelo, in ebraico si dice alaka, che di per sé vuol dire camminamento. Quindi dice il cammino dell'uomo. Il cammino dell'uomo. Ecco perché è il piede, simbolo della vita morale. Come a dire, ma verso dove è orientata la tua azione? Verso dove è orientato il tuo cammino? Verso dove è orientata la tua conoscenza? A volte il nostro agire è inquinato da intenzioni altre rispetto all'onestà, alla rettitudine, rispetto all'amore. A volte la nostra vita morale, il nostro camminamento è inquinato. Perché camminiamo, camminiamo sempre, verso interessi altri rispetto a quelli di Dio, a quelli che danno senso e pienezza alla nostra umanità. A volte la nostra conoscenza, il nostro occhio è inquinato. Il libro di Siracide, quando parla di sapienza, dice che la sapienza si acquista grazie a un'anima capace di raccogliersi nella preghiera. E l'anima è capace di raccogliersi nella preghiera se vive la purezza. Quindi la purezza consente all'anima di raccogliersi in preghiera. Un'anima raccolta in preghiera è capace di sapienza. Cioè la sapienza nel pensare, nell'agire, nel camminare, nel conoscere. E questo io vi auguro, arrivederci e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.